musica 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 preannunciato nello scorso episodio no, no, esplosione di Flary Gator esplosione di Flary Gator, non va bene no, no chi è morto? è morto Octillery che era in coppia con Meditite che non so se è ancora Meditite ok, falla tu ok, allora la batto Serebisarie vai, falla tu, falla tu perché effettivamente non ci ho pensato, io non ho abbastanza Pokéball, ora ne ho abbastanza Joe, ho appena perso un Pokémon si può, no, non è vero non si può già evolvere, che cazzo dico Allora... No Joe, che mossi ha o che abilità, perché mi sta spaventando No, 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 Clio, come ha fatto esplosione uno Snitle, ha morto Bocelli Sostituto è malcomune che infame C'era un po' subruzzo No, 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 è molto sudovuto pure Con chi era legato? Crotona Con Bellossom Crotona Non so se siete d'accordo voi a casa ragazzi Penso che sei il mio preferito, guarda cioè io ce l'ho dalla lista ai preferiti Luke è appena schiatato Shiny Maitina E' rimasto con 8 PS killer Ignori Yamako Nooo Non voglio saperlo E' morto di Yam, puttana Corkut No, frigo Frigo E' morto frigo Penso se si muove E' un po' che non base di nuovo Nooo Chi è? Tarrare me l'ha shotato Ninetales Chi è? Involontariamente ma l'hai detto ma Non c'è non si parla Nooo Koga Ma me l'ha shotto a tutti sto Ninetales ma che è? Oh Gio facciamo una Gio Eh E' morto è morto Nidorino Come ha morto Nidorino Mi ha fatto mi ha fatto sdoppiato uno di che tagliato tutta la vita No da ma non ci credo non ci sto credendo E' morto? E' assolutamente contropiede come mossa offensiva Regine gire 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 g E' morto è morto niente Eh vabbè Eh vabbè Nooo Morto Patty No Kingler Si No Gio Oddio non mi ricordo il tipo si me lo sono ricordato E' morto antipasto Come è morto antipasto? Beh è una shotato Quindi è morto Wobfett Si No Gio dai O mi addormentano o mi paralizzano o mi congelano No dai basta è morto Ursaring cavolo No come Ursaring aspetta Eh mi ha fatto breccio un cloistro su Ursaring Aspetta con chi è legato? Eh con Saramens Nooo Dai io affronto qualche allenatore No raga veramente No Gio è morto anche Sinisor basta No come è morto Sinisor? Non basta no non ce la faccio più seriamente Ma che con chi è legato? Io non mi ricordo Gio mai come si deve fare quel No ti prego non mi far fuori No 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 Cosa? No No Luke Prendo il foglio Prendo il foglio dei Pokémon No Luke E' morto Ehm No 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 E' morto il tuo Il tuo razzo? Da cosa sei avuto il tuo razzo scusami No Snorlax Ok è morto No Luke non dirmelo non dirmelo Mi ha scioltato malissimo Kanath con Obliderium Un blum blum No Malissimo Malissimo mi ha scioltato E' morto Manetrik Ma proprio malissimo Ma ti giuro Ma ti lo giuro Ok raga mi sono beccato il peggio per questo serio Si Ok Gio E' morto anche Gabibbo Quindi? Che è morto? Cioè non capisco Cioè chi è morto dei miei Ehm penso K-Litius penso 1 a 0 per noi raga Aia no lancia fiamme su SoundCloud E ti tipo erba è morto seccato sul posto Me l'ha ucciso Ma di cattu veria E' morto? E' morto Altaria Minchia mi ha ammazzato Ma la me Quindi è morto anche che Esplaudo Esplaudo è morto Cazzo Sai proprio una roba Ehm 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 Grazie.